Dopo il progetto 99 Borghi, racconto di Puglia dello scorso anno, in cui si sono riscontrati risultati lodevoli ed impatto comunicazionale e partecipativo importante, quest'anno l'Associazione di Categoria delle Guide e Accompagnatori Turistici, abilitati in provincia di Foggia, Confguide, propongono un programma estivo denominato Estate Incapitanata con Confguide, che si presenta con esperienze variegate per vivere a 360 gradi il territorio, dove natura e storia convivono in perfetta sintonia e sono capaci di emozionare anche visitatori più esigenti. 24 proposte, 19 località, 12 guide abilitate per scoprire e vivere la più estesa area provinciale della Puglia. Tante le novità, a partire dalla riscoperta dei borghi medievali dei Monti Dauni e del Gargano, agli itinerari costieri di mattinata a Vieste e Rodi Garganico, alla promozione dei siti storici archeologici situati sul tavoliere. In sinergia con i sindacati Federalberghi e Sib, sindacato stabilimenti balneari della provincia di Foggia, le proposte si rivolgono a tutti i turisti, visitatori e residenti, curiosi di scoprire il territorio della Daunia con guide professionali ed esperte.